Ragazzi, nuovo episodio di New World, dai, 150 like per il prossimo, lo sapete, finché era che li raggiungo, le views vanno bene, io continuo e continuerò finché li raggiungo appunto, non vi scamo su sta roba. Ho un malus stasera, sono super raffreddato e mi giro la testa, quindi partiamo veramente di me. Sei morto? Cioè, vengo accolto da questo. Quando è successo? Non mi ricordo. Ah sì, perché sono andato un minimo avanti in live. Ok, giusto, ero morto. Trova a Diana affruttato dell'Eden. Ecco vicino, perfetto. Livello 50? Non è forse meglio che faccia le queste di livello più basso per essere più safe, perché sono al 44, al 50 non dovrebbero farmi tanti danni, però. Stupidi api. Cosa sono quelle cose rosse in cielo? Oddio. Ah, sono i piselloni? Sì, livello 35. Ma è piccolino questa, ok, boschetto infestato. Lo faccio. Faccio schifo, faccio schifo al caldo. Menda pianto. Piccoli terra. Ma questi sono materiali nuovi oppure non ho semplicemente mai visti? Dai, è tutto montagna, qua non posso passare. Dai, che paura, ma te ne vai. L'altro giorno ho visto le ringa, madonna, c'ho l'ansia. Ogni cosa, ogni volta che apro gli occhi dentro la doccia. Ecco, viene la popolansia, chi è? Il fantasma di Samara. Registro da... 15 minuti. Stavo scopando un albero. È diventato un horror. Cioè, guarda che giro sto facendo... 20 minuti di registrazione. Voglio il rispetto. L'ho preso, madonna. Bellissimo. Oh, no, 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 che paura che poi... Non scherziamo. No, no, no. Oh, mio Dio. Se voglio disinstallo, eh. No, dai ragazzi, che poi devo fare tutto da capo, tutto il procedimento, tutto il passaggio. Porco, sto morando, sto evitando la morte e non so manco io come. No, 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 sono fottuto. Eh, loro ovviamente in acqua sono Cristo, sono io che vado a due all'ora. Dai, un chi... Dai, che palle. Solamente io sono lento in acqua, loro sono dei Cristi, sono dei delfini, degli squali, sono velocisti. Dai, Dio... Dai, ero arrivato qui. Spero di trovare dei pedini. Sono veramente... Disinstallo. Affanculo, te lo metti al culo il guanto. In acqua sono uno scala... Io in acqua sono... Ho il... Ho il preto, manco so parlare del nervoso, eh. Mi sto grattando come una scimmia, sono veramente incazzato. Dai che registro da mezz'ora, su, non ho tutta la giornata libera. Non sono come quei schifosi cicciobbini stardi che non fanno un cazzo tutto il giorno. Ma cosa sono sti versi? Che succede qui, tutto va a fuoco. Ci godo. Non sono così incazzato che ci godo. Ma quel lupo è abbelato. Guardate, belli quei colori. Che belli, madonna. Super saturati. Bellissimi. Ma il viaggio è veloce, ci sono quasi arrivato. Oh, grazie al cielo, il viaggio è rapido. Sbloccato, andiamo a fare la quest. Anche se al 50 credo che sarà un problema, secondo me. Vero, testine di cazzo? Sono forti? Ma che è? Logoramento. Oh, ma scoppiano pure. Comunque un nemico è sempre quella superarma l'infinita. Non importa che tu le colpisca con una spada o un oso sticadente. Stavo cercando di rimorchiare, cazzo. L'essere umano al quale ho dato il seme vivente. Sborra? Dirigiti verso il pozzo materno, ma è una spedizione? Non gli frega nulla del martellone addosso. Scoppiate. Eh, oh, ma che cazzo? No, 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 che cos'è sto cazzo? Schiva, schiva! Oh, oh, sono incastrato. No, li hai tirato. Iiii! Ma cos'è il completo della morte? Ma voi tutti insieme, cosa cazzo è successo? No, no. Voglio giocare al BDO. Il combat di BDO. Vucictera. Dragon Ness, Soul Worker. C9. Vendictus. Cerca l'alchimista menzionato da Diana. Se solo non l'avesse schippato, ma è sempre Teoprastus, è sempre lui. Ah, sapevo che avresti trovato un modo per venire qui. Rageni ci si intende. Mia immaginazione. Potresti chiedere come è composta la loro struttura ossea, il loro sistema vascolare? Ma parla di bambine? Questo è questo, è il livello consigliato 52. Teoricamente me la sta andando a cercare, cioè nel senso. È il livello un po' altino, non so se riesco. O meglio, magari riesco pure, però mi fanno tanto danno. Quindi se dovessi morire me la sto andando a cercare, ragazzi. Non devo... Ah, ma non è un verso di orso. È una donna che imita un orso. Forse è voluto. Ma sta orgasmando. Hola, ombre, sombrero, corrida. I don't speak Spanish. I'm Italy. Vaffanculo, stronzo del cazzo. È una puttana qua sorella, è una bravissima donna. È una grande. Posto. Ma cos'è? Già l'ultra estinto c'aveva quella lince. Ok, mi sto infilando dentro questo pertugio. Parola strana. Oh, ma sono livello alti... Sono livello altissimo qui, è normale? Ma come di scenderla questa? Che livello è? 54? Perché sono livello così alto? La questa è livello 54? Ma poi dove sono finito? Perché non va bene questo? Che vi sono? Ah, devo passare ancora... Ma Dio Cristo, ho fatto tutta sta strada. Devo scendere qua e poi girare di qua. Che palle! Grazie, registro di un'ora e mezza. Io non sto scherzando. Ho solo praticamente camminato sui gameplay. Livello 60. Ma che cazzo di giro mi va a fare? È pericolosissimo qua. Eh, ma devo passare di qua per forza. Ragazzi, sto perdendo la voglia. Vi giro su Dio. Cioè, sto perdendo la voglia tantissimo. La questa è al 54. Il vero è che sono al 46. Ma invece sono al 60 e mi sciottano. No, dai, mi sto rompendo il cazzo fortissimo. Semplicemente vado a fare altre queste. Perché non è cosa. Cioè, proprio one shot. Posso fare queste e queste qua. Più o meno da livello mio. Tipo, sentieri salterini. Dov'è? Le vediamo fino al 54. Al suo punto, magari fino al 60, se lo usciamo, ci troviamo dei coglioni il problema del livello. Ci mettiamo il gear e facciamo le queste tranquille. Ma poi ha senso farle queste una volta che livelli? Isola dei conigli. C'era una volta un coniglio che viveva su un'isola. Ho appena acceso il sindaco. Ah, ma devo ammazzare tutti i coniglietti? Devo capire qual è quello giusto. Mi serve un'arma a distanza, allora. Andiamo a caccia. Eccolo sta lei. Oh, cazzo. Carina sta quest. Seriamente carina. Va bene. Anche per questo episodio siamo a posto. Due ore. Due ore. Due ore e due minuti di registrazione. Ho praticamente solo camminato. Devo ancora fare un botto sul pulire, sistemare, farmi la doccia. Devo per forza interlompere qua. Ricordatevi ragazzi che tanto e tanto gioco anche New World e altri giochi qua su YouTube e live. Quindi dovete mettere questa campanella del cazzo. Perché se no banalmente me la son persa, come faccio? E ormai niente. Anche perché spesso le livello non ricarico. E magari vi perdete qualcosa di carino. Io vi ringrazio per la views. Edvesi vi saluta. E noi ci becchiamo. Al prossimo video. Ciao. Ehi, ciao. Ti consiglio di guardare gli altri video. Fallo.